Angeli con la fiamma, minuti preziosi che hanno permesso ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno di salvare la vita ad un uomo di 71 anni che ha accusato in strada mentre passeggiava in compagnia della moglie in via Villa Franca un malore. E' accaduto nel quartiere Mariconda Salerno, l'uomo si è accasciato al suolo, alcuni passanti che si sono accorti del malore dell'uomo mentre contattavano il 118 telefonicamente hanno notato il passaggio di una gazzella dei carabinieri in zona richiamando subito l'attenzione della pattuglia. Quello che sembrava un semplice malore stava per diventare una tragedia. I carabinieri hanno subito percepito con una cianosi in atto e un respiro corto che l'uomo fosse in arresto cardiaco. Hanno così subito messo in pratica le manovre di rianimazione cardiopolmonare, dandosi il cambio ai due colleghi fino all'arrivo dell'ambulanza. Dopo alcuni minuti è stato nuovamente rilevato il battito cardiaco e l'uomo di fatto è stato tratto in salvo. Quando è intervenuto il personale del 118, il battito cardiaco dell'uomo aveva ripreso la sua frequenza. I sanitari lo hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per le cure necessarie, ma non più in codice rosso. Saper fare un massaggio cardiaco può rivelarsi vitale in alcune occasioni come quanto accaduto ieri nel quartiere Mariconda, ha dichiarato ai nostri microfoni il comandante del Norma, il capitano Maglio Malaspina, che rende merito al soccorso compiuto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Salerno. Sì, grazie all'intervento tempestivo e professionale di una nostra pattuglia, un uomo di 71 anni in arresto cardiocircolatorio, è stato rianimato nell'immediatezza dell'infortunio che ha avuto ed è stato trasportato poi successivamente in ospedale, già in codice giallo e quindi si può dire che debba la vita ai militari che sono intervenuti. I militari hanno praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza, lo stesso medico a bordo dell'ambulanza medicalizzata si è complimentato con i militari del radiomobile perché diversamente avremmo avuto un epilogo diverso. Sì, esattamente. Chiaramente ci sono stati tempi tecnici in cui si è dovuto attendere l'arrivo dell'ambulanza e in questi preziosi minuti i nostri militari si sono alternati nell'eseguire le manovre salvavita che, come si sa, sono anche piuttosto impegnative dal punto di vista fisico. Il 71enne sarà riconosciente a vita nei confronti dei militari dell'arma? Sicuramente sì, quello che a noi rimane indubbiamente è la gioia di aver fatto il nostro dovere e di aver salvato una vita. Importante saper praticare il messaggio cardiaco, soprattutto quando poi si è in strada? Assolutamente sì, infatti questo è anche parte dei percorsi formativi dell'arma e alcuni dei militari che hanno partecipato all'intervento infatti erano anche abilitati come operatori BLSD.